C'è il rifiuto psicologico, c'è la parte emotiva di noi. Io sono mesi che penso a fare una LTC, che è una Long Term Care, sono mesi, perché voglio farla. E c'è il rifiuto a farla, c'è il rifiuto da parte mia, perché non so definirla. La Long Term Care è quella che garantisce, in caso di invalidità o di inabilità, la stabilità nell'ambito del reddito, perché è una condizione in cui io non potrò, da libero professionista, garantirmi un reddito per il mio mantenimento, però se io mi dovessi trovare malauratamente in questa condizione, avrò bisogno di assistenza. E se non voglio mettere in croce i miei familiari, che sia mia sorella, mia nipote, tutti quelli che possono essere eventuali familiari, amici, parenti, tutti, dovrò comunque pensare di avere un minimo di... Non riesco a definirla, non riesco a definirla nell'ordine economico, non riesco a definirla di quale potrebbe essere l'ipotetico incremento di... Perché c'è la parte emotiva che copre. Sì, sì, c'è il rifiuto. Ma perché tu quindi la pensi prima della pensionabile? Cioè nel senso, pensi se non riesco a lavorare... Questo sarà l'epoca in qualsiasi momento. ...che la pensi, c'è, molto, molto... Beh, allora, se dovesse succedere la pensionabile, avrò il mio reddito da pensione, che sarà un reddito dovuto da, tra la pensione pubblica, un misto tra la pensione pubblica e il mio fondo pensione. Cioè quindi... Il mio problema è se mi dovesse succedere, classico esempio, della situazione di una malattia invalidante, come potrebbe essere una SLA, piuttosto di una malattia grave, piuttosto che un incidente in macchina, visto che faccio 45.000 km all'anno, è un incidente in macchina che va a intaccare quella che è la tua sia abilità al lavoro, ma anche in malattia praticamente come persona. E c'è rifiuto mentale, non riesco a finirlo. Perché poi pensi, vedi che tu hai già inquadrato, io penso all'invalidità come se dovessi succedermi quando sono in pensione. E se non succederebbe... Non mi posso più garantire un reddito, allora questo vuol dire che non hai una pensione, perché se hai la pensione comunque su qualcosa, forse, forse, se potremmo contare... No, 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 infatti io ti ho fatto l'esempio perché hai detto, io sono una libera professionista, ma anche un dipendente, voglio dire, una libera professionista, se io non mi posso più permettere di lavorare, primis chi mi dà il reddito per vivere, secondo che è un reddito che mi permette di avere un'assistenza, per non devastare la vita a tutte le persone che stanno intorno, perché poi c'è anche un impatto importante, che è quasi più importante la premurienza questa, ma come la perda di autosufficienza, è quasi più importante la premurienza, perché la premurienza io la leggo soprattutto al fatto che ci possa essere un dilibidamento, quella è una situazione molto grave, perché, ad esempio, di prima, famiglia, ma non reddito, ma anche due redditi, dove c'è un mutuo, che spesso il mutuo è calibrato sui due redditi, se ne hai due, quindi se ne viene a mancare uno dei due, è già comunque un disagio, ma questa c'è un pochino più... primo perché si fa più squadra con le famiglie che ci sitiamo intorno, e poi perché l'indebitamento comunque a monte, sperando che sia un indebitamento sano, c'è sempre un patrimonio che eventualmente uno può anche ridimensionare in un certo modo, e comunque chi rimane può eventualmente poter darsi da fare per migliorare la sua condizione, è chiaro che dove ci sono bambini piccoli, ci sono valutazioni particolari da fare, però questa è un pochino più... non so come dire, è come quando vi strappate un cerotto, è molto più secca, questa è devastante, questa, 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 questa... la longevità... posso chiedere una cosa?